Siamo alla fine del corso del massaggio... Ancora dovete imparare, benissimo! Ragazze, con questo corso termina l'anno accademico della scuola Formazione Italiana Massaggi quindi se volete sapere come è andato questo corso seguite il video fino alla fine noi vi salutiamo, vi diamo auguri di buone feste, buon Natale e soprattutto buon 2020 dal gruppo Un Corso del Massaggio Californiano qui da Napoli è tutto, ciao! Ciao! Più entusiasti! Molto meglio, molto meglio! Ci troviamo sempre qui a Napoli per il corso del massaggio... No, va bene, va bene, ok, lo rifacciamo! Le figure di cacca sono qui! Allora, ci troviamo qui a Napoli per il corso del massaggio... Califoniano! Brave, siete state davvero brave! Dobbiamo riprendere a eseguire il massaggio tutto da capo, quindi posizione supina e posizione po'. Facciamo prima lo sblocco del diaframma e poi facciamo tutta la sequenza del massaggio califoniano. Ragazzi, come sta andando il corso? Benissimo! La torta... Com'era? Ottima! Bene, allora ragazzi, salutate! Ci vediamo più tardi! Ciao! Ciao! Californiano, ricordate! Ciao! 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 Ciao!